Domani mattina fanno un incidente subito, 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 immediatamente, hai capito? Cinque paparazzi subito, domani mattina. Lo sai come ha detto? È la prima volta che vedo lavorare e vedo cose serie. Hai capito? Comunque è a posto, dai. Ah, già ci sono arrivati sull'altro conto, ha fatto un giro, fino alle 8. Ma che ha detto? No, dottor, lo che ci sia, quello che abbiamo fatto oggi è magiciano, ma stai scherzando, non l'ho mai fatta in detesura. Ma che ha detto, tutta l'ora, c'è un giro di 120 mila euro, ma che si è fatto? È 20 miliardi, 140, totò. Eh, lo faccio, va. Ma ora parliamo della mattina, dottor, dai. Parliamo della mattina, dai. No, facci, 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 mi spardo un nuovo spostamento. Non hai capito, lui ti deve dare 60 mila euro, Enzo. Ma ti dare, sì, no, sì, 130, 50, 60, bravo, 60 mila euro. Abbiamo fatto un mostro di lavoro. Con lui facciamo i soldi, perché lui è uno spetto, uno che si muove la voce. Te lo passo, te lo passo, spiegati. Sì? Presidente, buonasera. Buonasera. Lei pensi che con degli asimi, degli asimi, ho fatto 300 mila in una settimana, se ci fosse stato lei al bastone di questa operazione, sicuramente avrebbe fatto 2 milioni. Se lei si muove con questo tipo di sistema e là è molto free, sicuramente facciamo belle cifre. E anche se è un'azienda italiana o con la società o con altre cose, gli danno i post. In Slovacchi basta chiedere informazioni e attivare l'attivazione del post. Gli danno, gli aprono il conto corrente e poi loro, giustamente, si appogliono sulla banca italiana, su ricevente come denaro. Ma è fenomenale, gli può fare tutto quello che vuole per una settimana di fila. Capito, Presidente? Mi creda, hanno un sistema, ora io le mando la foto con il nome, no? È fenomenale, Presidente, può fare quello che vuole per 10 giorni di fila, capito? Va bene, mi manchi che vediamo gli... Assolutamente, assolutamente. Grazie, grazie. Passo a... Sì, lo conosco questo già. Ma in corso, a fare e fare chi sto. Fai scemi, milioni, e poi ci fai sbattare, dici, guardami la possa. E va bene, ma l'ha da attaccare sempre, c'è l'Italia l'ha da attaccare. Sì, ma questo, allora, questo qua, tu puoi chiedere là con la società italiana, puoi chiedere il corso, capito o no?